In attesa dei dati definitivi dell'ARPA sulle rilevazioni sul territorio per valutare lo stato di eventuale inquinamento dovuto al rogo di domenica scorsa dal Comune di Alcomor rimane attualmente, oltre all'attesa dei dati definitivi per eventuali altre decisioni, solo il Consiglio ai cittadini alcamesi, ma non solo, anche del territorio in circostanze di lavare frutta accuratamente, ortaggio e qualsiasi altro prodotto raccolto. I dati sarebbero attesi per lunedì prossimo al Comune, fanno sapere che se dovesse lavorare prima saranno comunicati pubblicamente e ufficialmente. Il rogo, peraltro, è stato definitivamente spenso questa mattina, intorno alle 9 della mattina, quando i vigili del fuoco, ha detto l'assessore Roberto Russo, hanno considerato conclusa l'opera di intervento. Un'indagine è stata aperta sulle cause e sui risuolti eventuali della Procura di Trapani e il nome dei carabinieri effettuerà quindi le rilevazioni investigative.